Il calcio è una materia fredda, fatta solo di gol fatti e subiti, di numeri e valori tecnici da mettere a bilancio e poi mandare in archivio. Succede invece che per il secondo anno consecutivo sia uno 0-0 ottenuto in terra veneta a mandare lo spezia in paradiso ai tifosi aquilotti in delirio. Solo che 14 mesi fa la storica promozione in B fu un fatto soprattutto di gioia e festa giocosa. Mentre quella andata in scena al Bentegodi ha il sapore dell'impresa conquistata soprattutto attraverso la sofferenza. È un'attesa spasmodica, quasi intollerabile, che ha tenuto con il fiato a sospeso un'intera città per 95 lunghi minuti. Alla fine però è stata festa, con i 3.000 spezzini della Curva Nord a stringere squadra, tecnico e presidente in un abbraccio convulso che ha potuto finalmente sciogliere tensione e veleni di un finale di campionato al Cardiopà. A due mesi e mezzo vissuti pericolosamente ma conclusi raccogliendo i frutti di una voglia assoluta, quella di non lasciarsi sfuggire alla Serie B. Ciò che aveva faticosamente conquistato sette giorni prima, con un esaltante successo in rimonta, la squadra lo ha altrettanto faticosamente difeso ieri, al termine di una sfida tiratissima, vissuta sul limite del brivido ma anche della consapevolezza tattica. Santoni ha rispettato in pieno le previsioni che lo volevano protagonista, ma davanti a lui ha agito un gruppo ben messo in campo da Antonio Soda, abile a chiudere tutti gli spazi e governare gli assalti disperati del Verona, al quale serviva solo vincere. Tutti hanno dato il 200%, dal mazzolatore Confalone allo stoico Colombo, dal gladiatorio Pecorari al feroce Nicola, dal talentuoso Doprado a uno scarlato nuovamente all'altezza del decisivo giocatore del girone di andata. Senza poter dimenticare tutti gli altri, Saverino, Guzman, Paolino Ponzo, Capitano Fusco, Varricchio, mentre Supermax Guidetti ha sofferto e poi gioito in panchina. Umiltà e dedizione. Forse ci sarà davvero la rivoluzione mezzo annunciata dal presidente Ruggeri, forse oltre la metà di questi giocatori non vestirà più la maglia bianca. Comunque sia, hanno scritto un'altra pagina indimenticabile nella storia dello Spezia. Lo Spezia, sì, la Spezia, Liguria. Adesso se ne sono accorti davvero tutti.